Cari amici, siamo qui con una nostra amica che ci è venuta a trovare anche a Roma e che purtroppo questa ragazza da molto tempo viene sottoposta ad anomali, attacchi con armi ad energie dirette, addirittura uditrice di voci e che gli ha cambiato praticamente il suo modo di vivere, la sua esistenza, non può più avere una vita sentimentale, non può avere più un lavoro stabile perché queste manipolazioni e questi attacchi gli hanno creato praticamente dei gravi problemi. La ragazza adesso sembra che si sta riprendendo la sua vita perché sta da due o tre giorni in velleggiatura e mi ha detto tramite telefono che praticamente sembra che è ridata, che il suo cervello sta ragionando, ma voglio lasciare la parola alla nostra amica che attualmente vive nella regione Lazio, però la ragazza ovviamente si è dovuta spostare anche per motivi di salute perché veniva attaccata a queste frequenze o queste manipolazioni, ovviamente sentendo le voci di continuo che gli parlavano in testa, gli facevano credere delle realtà che potevano essere anche distorte. Lascio la parola alla nostra amica. Salve a tutti, voglio raccontare un po' la mia storia in grandi linee. Ho lavorato per 12 anni presso uno studio di professionisti associati e praticamente si metteva una bottiglietta della droga nell'acqua in una bottiglietta che io tenevo sotto la scrivania. Era una bottiglia di un lì per mezzo, per cui se non riuscivo a berla tutta quanta nella stessa giornata, il giorno dopo io continuavo a bere quella stessa acqua. Mi rendevo conto che durante l'ora di pausa pranzo se non andavo a sbrigare delle commissioni alla posta o in banca oppure presso la commercialista collegata al nostro studio, io rimanevo a studio e comunque mi sentivo un gran torpore, una grande sonnolenza e mi addormentavo, ma questo veniva quasi sistematicamente tutti i giorni. All'inizio non riuscivo a capire, avevo fatto diverse analisi, avevo fatto la capillaroscopia, avevo fatto l'elettromiografia, perché mi sentivo le braccia addormentate, un formigolio all'avambraccio e poi questa grande sonnolenza, però non usciva mai nulla dalle analisi, avevo fatto anche l'analisi del sangue. Purtroppo nessuno mi aveva detto avrei dovuto fare magari un esame tossicologico e mai l'ho fatto, però effettivamente poi mi sono resa conto che mi mettevano qualcosa in modo tale da addormentarmi in quel determinato periodo di pausa. Ma pensi che sia stato una sorta di farmaco ipnotico? Penso che sia stato il GHB, ossia la droga dello stupro, perché col seno di poi sempre, perché io oltre a stare da segretaria in quello studio, facevo anche, sfaccendavo nelle varie stanze per metterle a posto e mi sono resa conto di aver visto in uno dei vari studi una bottiglietta bianca di plastica, con sole e poi degli occhiali scuri. Questa stessa bottiglietta, andando a fare delle ricerche su internet, l'ho ritrovata fra le varie bottigliette del GHB, quindi l'ho riconosciuta, però questo ovviamente qualche anno dopo, quindi non ho dubbi a riguardo. Però le analisi non hanno riscontrato niente? Analisi no, però non ho mai fatto l'esame tossicologico, che sarebbe stato quello più indicato per scoprire le eventuali presenze di questo GHB. Ma hai fatto mai un elettroencefalografo? No, mai, purtroppo no. Poi tra l'altro, siccome fino a tardità non avevo avuto ancora rapporti sessuali completi, mi sono resa conto una notte, perché purtroppo queste persone, oltre ad addormentarmi in studio, mi addormentavano anche a casa, nel senso che queste persone si erano fatti il doppione delle chiavi di casa e entravano regolarmente dentro. Un mattino mi sono svegliata, che avevo un gran dolore al basso ventre e poi anche delle macchie di sangue che erano fatte di sangue rosso vivo, quindi mi sono resa conto di essere stata violentata e questo mi ha portato ad avere dei grandi sospetti, perché praticamente facevo lavoro casa, casa lavoro, quindi non è che avessi un giro al di fuori del lavoro, non frequentavo nessuno perché mi ero un po' rivirata in me stessa, anche perché il lavoro assorbiva la gran parte della mia giornata, tant'è che arrivavo a casa verso le 8, già con una grande sonolenza e il tempo di entrare, magari mi adagiavo quei 10 minuti sul letto, dopodiché proprio corravo in un sonno profondo e mi svegliavo verso le 2, saltando la cena con la televisione ancora accesa, la luce accesa e mi ritrovo veramente, ammazzavo che ero proprio assordita e una sera, un mattino in particolare mi sono svegliata che pur avendo dormito tutta la notte senza interruzione, mi sono svegliata che come se mi avesse dovuto andare a dormire in quel preciso istante, proprio una sonolenza incredibile, il cervello me lo sentivo veramente assordito e secondo me lì forse avranno un po' calcato la mano rispetto al dosaggio normale e quindi andavo al lavoro normalmente, nonostante questa sonolenza veramente non riuscivo a capire da che cosa dipendesse. Mi sono ritrovata a casa una penna spia che poi quella stessa penna spia l'ho vista anche in una di queste istanze dello studio e poi mi sono ritrovata delle cimici che erano formate tipo non grande più di una scatola di fiammiferi, erano grigie, ne avevo trovate due, una messa indietro il televisore e un'altra in direzione dello specchio del bagno. Purtroppo no, perché lì per lì pensavo che fosse il telecomando un telecomando, perché avevano una forma come se fossero un telecomando di un qualsiasi cancello, siccome era venuto a mio fratello qualche giorno prima, pensavo magari se lo fosse scordato lui, però poi quando ho fatto fare una bonifica ambientale da una società romana, il giorno prima che questa società venisse a fare questa bonifica erano già scomparsi, abbiamo tolto sia quello dietro al televisore che è quello sul corridoio che era messo in direzione dello specchio che mi riprendeva praticamente quando facevo la doccia e quindi mi sono ritrovata che quelle scatolette non c'erano più dentro casa. Dopo che ti hai fatto tutte queste ricerche persone, mi hai detto che ti hanno incominciato a parlare in testa attraverso delle frasi con messaggi subliminali. Quello è venuto dopo essere stata licenziata, perché ho dato delle battute lì al studio facendo capire che ho capito che le persone che metterò dentro casa provenissero dal mondo del lavoro. Una volta che loro hanno capito che io ho capito tutto quanto, pensando che io fossi una persona pericolosa perché iniziavo un po' a parlare di questa cosa anche con persone dello studio, allora hanno pensato bene di licenziarmi in quanto mi ritenevo ormai una persona pericolosa. Ma potevano essere associate a società massoniche? Sì, penso proprio di sì perché anche all'interno dello studio c'erano comunque dei simboli, ecco c'era una piramide, ma c'erano dei simboli che mi inducevano a pensare che questi professionisti appartenessero al mondo della massoneria. Ad ogni modo una volta licenziata, quasi due settimane dopo essere stata licenziata, io ho iniziato a sentire delle voci che mi parlavano e per lì rimasi molto meravigliata, perché la prima volta che senti questa voce disse oddio sto diventando pazza, ma che cosa mi sta succedendo? E sentivo che queste voci avevano come se appartenessero ai miei vicini di casa e quindi per lì pensai che mi hanno messo un microchip sotto pelle e magari si mettono in comunicazione con me tramite questo microchip, poi andai su internet e effettivamente vedi che questa metodologia di seguire una persona tramite microchip esiste effettivamente, però non penso a tutt'oggi che si trattasse del caso mio, penso fosse più una cosa… Quindi microchip si vede poi, se fai una lastra, una tacca e si vede, perché il microchip deve essere un ricettore ma deve essere anche un trasmettitore di segnale, perché noi subiamo anche degli attacchi fisici attraverso le altre tecnologie, quindi come fare un microchip miniaturizzato a fare tutto questo, a rilevarsi con il sistema GPS, ad attaccarsi con l'arma di energia diretta e poi mettersi dalle frequenze che interagiscono col corpo? Io a distanza, soprattutto nei primi 3 mesi che sono seguiti al mio licenziamento, ho subito gli attacchi attaccati veramente quelli più grossi, a tal punto che poi sono andata a finire al centro psichiatrico di un promosso ospedale romano. Spiegali però quali sono gli attacchi, così le altre persone capiscono che subiscono le stesse identici attacchi, che fanno le stesse identiche patologie, di non credere che sono parsi, ma che vengono attaccati da questi sistemi, perché la gente crede che vivo, sono diventato pazzo e fa dei gesti magari disperati, ma in realtà potrebbero essere sottoposti una sorta di esperimento, una sorta di manipolazione radiocognitiva. Sì, praticamente loro si collegavano al mio cervello e mi dicevano le cose peggiori, siccome loro sapevano che il trauma più grosso che ho subito era quello di violenze sessuali, loro hanno cercato di attaccarmi soprattutto su questo punto, dicevano guarda che adesso viene Tizio, viene Caio e ti violenta, sei attenta ad uscire perché ti aspettano di sotto e poi guarda che adesso in casa loro sono entrati sempre Tizio e Caio, stanno nell'altra stanza, tu al momento non li puoi vedere, però se tu vai nell'altra stanza li vedrai, ti vogliono violentare, sono lì che ti aspettano, insomma attacchi di questo genere, poi addirittura mi dicevano che mia mamma era deceduta mentre stavo fuori e poi mi stringevano, mi comprimevano il cervello, cioè mi sentivo il cervello come se avessi avuto due mani che stavano lì a comprimermi forte forte il cervello, mi sentivo veramente come se il mio cervello mi stesse scoppiando. E' proprio confermare quello che hai detto perché lo facevano anche a me e lo fanno molte altre vittime del controllo rurale che gli fanno sentire proprio queste sensazioni fortissime di stretta del cervello, come se non riesce a respirare, presa in gola. Poi mi davano anche dei calci sul corpo e mi dicevano che erano delle persone invisibili che mi davano questi calci e anche magari mentre io attraversavo il corridoio di casa mia a un certo punto sentivo proprio un calcio dato negli stinchi, un dolore vancinante, veramente dico ma che succede? E loro mi dicevano che erano loro come persone invisibili che dicevano tu non ci vedi, però noi ti siamo lì a presso, in effetti mi sentivo anche toccare e poi durante la notte mi dicevano, mi sentivo toccare, anche nelle parti intime mi dicevano che loro mi potevano violentare anche come persone invisibili. Sì è vero, perché con lo stato ipnotico e narcoletico riescono a creare un clone del tuo corpo e attraverso la mappatura celebrale o addirittura le frequenze in neurofisiologia applicata o risonanza sensoriale, loro possono clonare le due frequenze, clonando le due frequenze volte possono addirittura toccare un colone, un manichino olografico, vi faccio un esempio, quello che il manichino sente, le sensazioni del tatto, le possono rimettere sul corpo, infatti molte persone che credono di essere addotti o di essere stati da guida agli alieni, ma in realtà vengono sottoposti a queste stesse tecnologie, però la loro mente pensa all'alieno corpo oppure pensa a un'altra forma di un'entità superiore, ma in realtà non riescono a capire che sono proprio tecnologie che vengono attestate attraverso questi sistemi sul nostro corpo. Poi mi sentivo il mio corpo veramente surriscaldato, le microonde, i campi elettromagnetici, gli infrarossi portano a questo praticamente. Poi mi dicevano che erano delle pressioni psicologiche, mi dicevano veramente cose orrende, cose brutte riguardo la mia famiglia, riguardo me stessa e in quel momento avevo talmente una tensione molto, molto forte, molto alta che l'interno delle mie mani grondavano di sudore, perché era talmente tanta la paura che mi inducevano che la tensione, la sudorazione, non so, avevo queste mani grondanti di sudore e poi non riuscivo veramente ad essere me stessa, per andare da una stanza all'altra. Io in quel periodo che mia madre mi aveva raggiunto perché sapeva che mi avrebbero licensato da lì e poco, poi una volta licensato mia madre mi ha fatto compagnia per almeno un anno e quindi chiedevo l'aiuto a mia madre di accompagnarmi da una stanza all'altra, proprio perché avevo paura, ero diventato ormai un'automa, terrorizzata esattamente, anche quando dovevo andare in bagno chiedevo a mia madre, mamma vieni perché altrimenti non mi rilasso, non riesco a rilassarmi neanche in bagno, quindi lei mi deve accompagnare come se io fossi stata una persona non autosufficiente a me stessa. Io posso dire una cosa, io ho conosciuto questa ragazza, lo voglio dire a le persone che ci ascolteranno, io ho conosciuto questa ragazza, vi dico una bravissima ragazza che quando l'ho vista ha detto veramente come hanno fatto a farti questo a te, purtroppo le brave persone, le brave ragazze che riescono a sentire determinate frequenze extrasensoriali vengono attaccate perché hanno una fortuna di rilevare questi sistemi, ma nello stesso tempo hanno una sfortuna perché vengono considerate cave da laboratorio come io e altre centinaia persone che hanno fatto le interviste sulla mia radio web e vengano bambino a spiegare insomma e poi potete ascoltare le interviste su tutti i canali di Youtube. Puoi continuare tranquillamente? Penso di essere stata attaccata per aver scoperto delle cose all'interno di questo studio che magari forse non avrei dovuto scoprire, però le ho scoperte perché purtroppo hanno toccato me stessa e quindi penso di essere stata attaccata successivamente per questo motivo qua, anche perché io inizialmente avevo intenzione di denunciare e questo l'avevo comunicato a qualcuno dello studio e di conseguenza loro hanno cercato di farmi passare per pazza in modo tale che io se avessi raccontato in un secondo momento una volta licenziata quello che veniva dentro lo studio magari mi avrebbero preso per pazza appunto per interdetta e quindi mi hanno fatto fuori il livello di cervello. Certo così perdi la credibilità no? Esatto, poi mi hanno anche fatta ammalare di tumore, sempre l'anno successivo al mio licenziamento. Ma ti facevano sentire delle frequenze anomale sul seno o ti facevano… Io mi ricordo tra una mestruazione e l'altra senti il seno proprio turgido, proprio turgido, non era una cosa normale perché di solito questo si crea quando stanno per arrivare le mestruazioni, ma mai succede che ci rimane questa sensazione tra una mestruazione e l'altra, quindi nei 28 giorni che separano una mestruazione dall'altra. E tant'è che lì per lì ho detto, oddio ma che mi sta succedendo. Poi col tempo andai a fare accertamenti e da lì uscì che io avevo tre carcinoma al seno. Però già mentre stavo a lavoro, siccome io facevo delle intercettazioni mie personali all'interno della casa per vedere chi mi entrasse dentro casa, già queste persone che mi facevano del male dicevano che… Cioè anticipavano quello che mi sarebbe successo a distanza di un anno dopo. Mi dicevano ridendo e deridendomi, ah ah lei tanto adesso rimane pelata perché in effetti poi dopo la chemioterapia io ho perso tutti i capelli, poi vabbè mi sono ricresciuti. Ad ogni modo mi è successo quello che loro avevano anticipato, ossia che sarei rimasta pelata, che avrei, diceva ah ah adesso lei rimane con un seno, avrà un seno bioico. Cioè ma loro te lo dicevano ancora prima che ti avevi scoperto che avevi avuto. Si sì, si parla prima a settembre del 2013 quando loro deridevano il mio futuro stato di malattia. Ma perché queste tecnologie ti potrebbero aver causato questo male? Pense dopo di sì. Io penso che loro vabbè, quello con un secondo momento sono anche satenisti. Quindi avranno sicuramente fatto dei riti, ma oltre a quelli hanno usato anche dei mezzi tecnologici, quindi tra il surriscaldamento dovuto alla pressione psicologica mentale e i loro riti, tutte e due sicuramente hanno portato alla creazione di questi tre carcinoma al seno e ne sono convinta perché io e Rosana come un pesce, quindi sono sicura che tutto quanto sia di peso dalle loro malefatte, tant'è che loro dicevano che adesso con questi riti lei si sentirà male, avrà un tumore e si rimarrà malata a vita e poi ritevano, soprattutto era una coppia, la moglie diceva adesso non conquisterà più con questo seno, adesso nessun uomo le andrà a pressa, insomma questo era il suo divertimento, era la sua goduria che io sarei diventata mutilata, il marito mi chiamava mutilata e handicappata, questo è un anno prima che io poi effettivamente sarei stata smutata di questo seno a livello chirurgico. Ma a livello psicologico ti hanno fatto pensare anche, perché queste frequenze e queste manipolazioni fanno pensare anche a fare dei gesti disperati, come molte persone hanno pensato perché non ce la facevano più a soffrire questi attacchi e queste manipolazioni. Sì, perché queste manipolazioni ti inducono veramente ad uno stress tale che le cellule del corpo poi reagiscono, che purtroppo esplodono in maniera negativa, sono convintissima di questo. Pensano al suicidio perché si vedono distrutti fisicamente e psicologicamente e poi gli inducono questi malesseri, queste grave malologie che purtroppo sono... Sì, perché loro comunque mi hanno, se ci penso nel giro veramente di poco tempo, io ho subito violenze sessuali, nonché la violazione, poi sono venuti dentro casa mia, quindi mi hanno anche rubato, mi spostavano gli oggetti per farmi avere paura, per terrorizzarmi, poi sono stata licenziata, sono uscita pazza, quindi sono stata ricoverata presso l'ospedale, presso il reparto psichiatrico di un ospedale romano, poi ho avuto un tumore, veramente non mi hanno fatto mancare nulla, però prima che loro intervenissero a maneggiarmi e farmi stalking, hanno fatto terra bruciata sui miei affetti, quindi mi hanno isolata un po' dal mondo. Tutte le mie amicizie piano piano me le hanno allontanate, ho per un motivo o per un altro, ho notato che piano piano, io ero piena di amici, ma veramente piena, addirittura dopo... Cioè avevo amicizie universitarie ventennali, quindi piano 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 mi hanno fatto terra bruciata, in modo tale che la vittima, ossia io, rimanessi isolata prima di potermi attaccare con tutti i loro mezzi, prima sul lavoro e poi nella vita privata. Loro mi hanno anche messo delle telecamere all'interno, cioè io ho messo delle telecamere mie, ho messo due sistemi purtroppo wifi all'interno di casa mia per poter acchiappare queste persone e vedere chi potessero essere. Ci sono arrivata non con le telecamere, ma con le intercettazioni. Con le telecamere purtroppo loro mi hanno detto che probabilmente hanno utilizzato uno strumento che si chiama Jammer, con cui potevano bloccare il segnale di questi due sistemi di videosorveglianza e quindi potevano entrare tranquillamente. Poi comunque loro, per conto loro, avevano messo dentro casa mia, dietro le tende, quindi diciamo in quella fissura da cui esce la corta per alzare le serrande, avevano piazzato loro una micro telecamera con cui vedere, spiare quello che facevano in camera da letto. Io ho trovato il silicone che prima non c'era all'interno del celetto, si chiama celetto quello che, diciamo, dentro il quale si trova la corda della serranda. Però era talmente corposo, perché non ho messo tanto, che io non riusci neanche a segarlo. E poi, di colpo, diciamo, verso agosto del 2014, lo trovai io segato, quindi facevano loro una bonifica, perché io ormai avevo coperto con un pezzo di carta questa fessura, quindi loro avevano capito che avevo capito pure dove si trovavano le loro telecamere, perché vedevo che loro facevano commenti mentre io stavo dentro casa e quindi a qualche parte mi dovevano spiare. Eh, però potevano anche utilizzare le frequenze due cerebrali attraverso la sincronizzazione degli occhi e dei conduzzi oggettivi, quindi potevano anche vedere dai due occhi e sentire direttamente dalle volezze. Sì, allora io senti la moglie che diceva, ma io avrei potuto contare ulteriori cose, elementi tecnologici per poterla spiare, ma mi basta la piramide. Dalla piramide io riesco a vedere tutti i suoi movimenti, quindi c'è anche la piramide. La piramide è l'occhio massonico della pineale, si permette di aprire le due frequenze cerebrali e far sì che loro possano vedere attraverso la piramide. Sì, perché lei diceva che praticamente era inutile comprare ormai ulteriori elementi tecnologici, perché da quella piramide loro già potevano vedere tutto quello che faceva e che non faceva all'interno della mia casa o anche fuori. Io all'epoca frequentavo una persona, loro praticamente facevano i commenti su ciò che facevo io nella camera da letto con questa persona, veramente non avevo più privacy. Ti dicono come ti devi essere, quello che devi fare, quello che ti piace, quello che non ti piace. No, loro poi tra l'altro mi chiamavano in tutte le maniere possibili e immaginabili con cui si può chiamare una persona che si dà la perdizione, cosa che veramente non mi riguardava, perché la persona che io frequentavo allora era l'unica persona che io avevo frequentato dopo aver toccato i 42 anni. Quindi voglio dire, se una persona che frequenta il stesso posto dopo 42 anni e ti fa qualcosa, viene considerata mignotta… No, è una bravissima ragazza, questo lo posso confermare pure io. No, io ti dico quello, cioè gli appellativi con cui loro mi chiamavano, erano solito chiamarmi dall'altro lato, ecco, quindi mi impressavano veramente, mi dicevano cose brutte, veramente brutte. Lo so, pensa che c'è una signora di Roma che ha fatto lo sciopero della castità e lei ha 7-8 anni o 10 anni che probabilmente non ha più un uomo, non ha più nessuno e perché ovviamente le voci mi dicono in testa che lei è una prostituta, che lei è una meritrice da bordello, che lei fa tutte queste cose sporche, queste cose pornografiche, invece lei dice ma io non ho fatto mai niente nella mia vita di queste cose perché dovevo dire queste cose di me. e purtroppo gli fanno credere che tutti i vicini di casa vedono sui canali televisive e sui canali internet i suoi film, ma in realtà noi abbiamo fatto delle prove, abbiamo cercato in tutti i modi il suo nome attraverso la sua immagine, attraverso delle fotografie. No, però credo che quello che loro riprendano, perché loro mi hanno effettivamente ripreso, so addirittura che loro hanno venduto lo stupro a 20 Euro, so anche il prezzo e anche i filmini che loro hanno fatto su di me e anche sugli stupri, allora addirittura dicevano che mi avevano venduta, nel momento in cui loro mi addormentavano, mi avevano venduta a clienti di Arezzo, ad un cinese, addirittura loro dicevano pure i prezzi che con uno avevano guadagnato 180 Euro, che loro mi chiamavano pazza, con la pazza abbiamo guadagnato 180 Euro con questo cliente, con un'altra, con un'altra dice dopo 3 ore ci ha dato solo 15 Euro, un'altra 80, quindi diciamo veramente da loro discorsi, se effettivamente sono veri, se è vero quello che loro dicono, in pratica mi avrebbero venduto e avrebbero filmato questi rapporti e li avrebbero postati su internet, ovviamente non su internet normale, ma sul deep web, laddove magari con dei codici attraverso i quali queste persone sataniste sono abilitati a guardare e quindi ovviamente loro ci guadagnano pure, perché se vuoi andare su questo canale noi ti diamo il codice, tu paghi e puoi andare a guardare questa tizia che abita in questo quartiere, magari mi avranno contattato anche persone che mi conoscono nel mio quartiere, io ho notato anche un movimento sano all'interno del mio palazzo, sono stati dati dei… La tecnologia è molto elevata per poter essere utilizzata su semplici canali, internet su semplici canali delle persone. Eh sì, però considera che le persone che mi entravano dentro casa erano, secondo me, capeggiate da persone ricche, molto ricche. La tecnologia è prettamente il dare, perché la tecnologia c'è? Eh sì, ma delle persone avevano sicuramente degli agganci, le persone ricche poi hanno comunque degli agganci, soprattutto che sono persone massoniche, di sicuro non gli mancano gli agganci di persone di un certo rango, quindi come tutti sappiamo la massoneria sia vale sia di persone di alto rango che di persone veramente, così, veramente molto, molto basse. E quindi loro ci hanno guadagnato su queste cose. Io so anche che addirittura questi filmini li noleggiavano e li noleggiano tuttora attraverso questi filmini, loro fanno sicuramente un lauto guadagno, con purtroppo il rovescio della metallia che magari mi hanno diffamata e nel quartiere… Perché non li hanno mai trovati questi filmini? Non posso trovarli io, perché se non faccio parte della loro setta, io non li vedrò mai. Tutti, cioè li vedranno, li andranno a vedere? Allora, li potranno a vedere solo quelle persone che fanno parte di quella setta e queste persone per poter vedere queste cose qui devono avere un codice, devono essere abilitati e devono far parte della loro setta, altrimenti nessuno al di fuori di questa setta può andare a guardare queste immagini. Ok, però metti caso che loro hanno un codice, come si devono collettere? a questo sito, a questo canale, per poter vedere i tuoi filmini. E penso, io penso anche tramite Visacard, tramite queste cose, loro possono… Sì, che cosa si connettono per vederli? E non saprai, sicuramente sul Deep Web, credo, eh? Ecco, se non lo mettono tramite internet, devono accedere a dei database, questi database… Sì, però mi sono informata su internet, sul Deep Web, dice che addirittura per non essere intercettati dalla polizia postale, loro hanno tantissimi codici che nei vari neandri del Deep Web, che veramente è una cosa farraginosa, dice che anche per la polizia postale è molto difficile arrivare poi all'oggetto finale, in quanto vanno con un codice, poi quel codice si avvale di un altro codice e quest'altro codice se ne avvale di un altro, è un labirinto proprio per cercare di bypassare un eventuale controllo o intercettazione da parte della polizia postale. Va bene questo, ma questi devono avere un server che deve trasmettere e contenere queste informazioni. la polizia postale, quando fa la tracciatura della persona che viene individuata, che entra all'interno di questi siti, la persona individuata dopo si ritorna un'altra volta nello stesso sito, c'è la seconda tracciabilità. Cioè, non è un hacker che mette un virus e poi scompare dal web e non verrà mai più visto con quel computer o non metterà mai più, non si connetterà più sul sistema, ma loro praticamente vedono dei film e quindi si devono collettere da varie postazioni e prenderli in continuazione. E' come se tu apri un sito dove metti dei film mirata, ti faccio un esempio, o film pornografici, c'è addirittura un copyright che controlla se i film pornografici vengono registrati attraverso determinati canali e esistono proprio dei server che giustiscono questa cosa e vedono praticamente se ci sono dei filmati che potrebbero essere soggetti, di persone importanti o addirittura di bambini piccoli, quindi la tecnologia deve essere molto avanzata per operare. Penso proprio di sì, perché non penso che queste siano persone, sicuramente sono persone che hanno un certo grado di conoscenza soprattutto informatica e tecnologica. Ma non è possibile che queste persone sono superiori a un sistema di investigazione o di sicurezza o di intelligence, perché loro devono operare per forza attraverso una tecnologia o che è superiore a quella delle porte dell'ordine o che addirittura è usata da agenzie legate tipo intelligence o mazzonerie legate militari per operare con un sistema che occulta totalmente un parametro di testura. E qui vedete un milione di Euro di guadagno, no 20 Euro, 30 Euro. E non lo so, io dico quello che ho sentito. No, lo so, sto facendo un ragionamento della tecnologia che potrebbero aver utilizzato, perché molte altre vittime del controllo orale, molte altre persone che vengono sottoposte ad attacchi con un'arma di energia diretta, loro sentono i vicini di casa, l'hanno fatto anche con me, mi facevano sentire la signora di sopra che poi era già morta da una settimana e loro mi facevano vedere che io parlavo con i morti, però io già avevo capito che era una tecnologia che opera attraverso frequenze infrasoniche e che immesse all'interno del mio cervello creavano dei suoni simulati e che potevano ridigitalizzare attraverso una tecnologia biometrica, un clone vocale, cioè loro potevano modificare un timbro vocale al loro piacimento e rimettermi quel timbro vocale per farmi sentire praticamente la voce di una persona. A me la faccio credere che io sentivo i morti, che sentivo Gesù Cristo che mi parlava, che sentivo gli angeli o tante persone che fanno credere che stanno nel cimitero che fanno sentire i morti, il cimitero eccetera eccetera. Però purtroppo il sistema ipnosico e narcoletico e della manipolazione cerebrale sia attraverso il sistema radiocognitivo, purtroppo interagisce con i centri nervosi centrali e loro quando conoscono i punti deboli della cavia che viene sottoposta a questi trattamenti, riutilizzano i loro pregi e difetti o le loro sensazioni e emozioni, rimodulando queste frequenze e attaccandoli con delle frequenze opposte, cioè se sei una brava ragazza che non hai mai avuto problemi, cioè non hai mai fatto cose strane a livello sessuale, la ragazza è del costante principi e loro si attaccano dicendo che fai la prostituta, che fai di qua, che fai di là, oppure magari sei una persona che va in chiesa, che preghi, perché sei religiosa e credente, loro si attaccano e lavorano su questo. A me addirittura mi bestemmiavano in testa, mi facevano credere che c'era Satana che mi stava seguendo, l'ho detto, scusa, ma Satana viene da me e fa queste cose qua, perché io ormai avevo capito il trucchetto della manipolazione cerebrale e non ci cascavo più ai loro trabocchetti, ma a me hanno deviato la tecnologia della manipolazione diretta all'interno del cervello quando io avevo capito praticamente non funzionato. Non è per tutti così, perché tanti purtroppo non riescono a capire che è una tecnologia, perché loro vivono nella realtà virtuale e allora si buttano giù ancora le rifiuti psicologicamente perché credono che sono diventati malattie, che sono scivoli, che sono diventati malattie. Poi tante volte i parenti non gli aiutano queste persone, invece ti hanno dato l'aiuto, il supporto di mia madre. No, infatti mia madre mi faceva arrivare due autoambulanze, una di mattina e poi di pomeriggio non ero neanche ancora tornata dall'ospedale che mi faceva ritrovare un'altra autoambulanza sotto casa. E chi l'ha già chiamato in un'ambulanza? Mia madre e mio cugino. Ah, perché loro pensavano ovviamente che tu stavi uscendo fuori di testa. Sì, esatto, perché avevo chiamato due volte le forze dell'ordine e quindi dice non sta bene, ricoveriamola. Sì, perché tante volte purtroppo la manipolazione mi fa tante i parenti. Sì, perché tante volte mia madre che mi dice, ah vai dal dottore fatti datemi tranquillanti, fatti datemi decalmanti. Sì, però che intelligentemente i farmaci che mi hanno diciamo somministrato, che hanno cercato di somministrarmi e io li mettevo in bocca poi come l'infermiere giravano le spalle li buttavo perché io mi rendevo conto di essere abbastanza vigile. L'unica cosa che non ho potuto fare a meno erano invece, era il bicchierino che conteneva un liquido e quello non potevo fare a meno di prenderlo perché loro mi facevano parlare subito dopo e quindi la bocca la dovevo avere vuota, quindi dovevo aver deglutito quello che mi hanno dato come liquido. Invece le pillole le mettevo sotto la lingua oppure lateralmente, quindi anche se mi facevano aprire bocca, io dimostravo a loro di averli ingoiati, in realtà non era così e quindi mi diciamo che mi sono salvata, però tante altre persone come me vedevo che… io adesso attualmente frequento un gruppo di uditori di voci, però… molto importante questa del gruppo. Sì, noto che loro, a differenza di me, stanno assumendo dei farmaci e li vedo che o hanno le mani che tremano, oppure hanno i movimenti rallentati, oppure sembrano un po' quasi zombie direi, veramente. Questo perché loro assumono questi farmaci e io invece non li ho assunti. e l'ho fatto bene, pure io all'inizio il dottore mi disse che sicuramente c'era una depressione e mi hanno fermato la gendarmeria nera di Roma il 10 febbraio del 2001 e dopo due giorni hanno cominciato ad avere questi bruscioli in faccia, in testa, questo intonsimento, queste tre patologie. Ho detto, qui c'è qualcosa che non quadra. A me mi sembra più che stiano utilizzando una tecnologia nel mio corpo che ricrea determinate patologie. Ovviamente il dottore aveva detto a quei tempi che io credevo che utilizzassero il telefonino per irradiarmi sul corpo delle frequenze che potevano essere magari intercettazioni ambientali prese direttamente dal mio telefono e che loro, clonando i miei telefoni, potevano ascoltare e vedere attraverso praticamente lo stesso telefono. Però a quei tempi non c'era la telecamera sul telefono, c'erano solamente i telefoni GSM che operavano con determinati tipi di frequenze e dopo le hanno sostituiti. Però le radiazioni erano devastanti. Addirittura dovevo staccare la batteria quando camminavo pensato al centro storico di Roma perché mi veniva già a svenire, mi sentivo dei blocchi fortissimi respiratori, dei mal di testa improvvisi, appannamento rotale della vista, acufeni fischi fortissimi all'interno delle orecchie. Poi mi sono accorto che questa frequenza dipendeva da qualcosa che deve provenire dall'alto perché i lampioni defibrillavano. Cioè quando io passavo sotto il lampione, il lampione incominciava ad accendersi e spengere. Allora io che cosa facevo? Mi spostavo dal lampione all'altro perché volevo vedere se succedeva veramente su tutti i lampioni. Purtroppo succedeva su tutte le luci al neon e io ci passavo sotto. E lì mi sono accorto che utilizzavano dei campi elettromagnetici. Infatti sono andato poi su internet a studiare che tipo di campo magnetico poteva creare questo blocco della luce del neon e c'era scritto proprio che potevano essere modificate le frequenze elettromagnetiche dei reattori e cambiare una determinata frequenza e facevano sì che il reattore non riusciva più ad accendere attraverso una pressione magnetica questo tubo. La descrizione tecnica io l'avevo letta un po' di tempo fa purtroppo col fatto che loro ti creano il blocco della memoria temporanea. Sì, vero, questo lo posso confermare. Proprio si creano dei vuoti di memoria di pochi secondi. Addirittura come se loro ti togliessero dalla mente per brevi secondi ciò che tu hai fatto anche durante la mattinata stessa, magari te sei nel pomeriggio e ti scordi quello che hai fatto qualche ora prima, ma sono proprio secondi, brevi secondi. Perché è come se noi viviamo in uno stato di sonnambulismo. E poi a volte è come se ti appannassero proprio il cervello. Sì, sì, sì. Te lo annebbiano, ecco. Certo. Non ti ricordi più determinate cose. Addirittura mi facevano dimenticare le chiavi, il portafoglio, il telefonino, non lo trovavo più. Dicevo, ma come è possibile? Ma c'erano un minuto fa il telefonino eppure me lo facevano dimenticare. O tante volte ti bloccano alcune parole, che magari sono parole tecniche, che se vuoi esprimere, oppure vuoi creare un concetto, un determinato tipo di discorso, magari quando stai con persone che magari vanno a perdere, come a me tante volte faccio delle interviste a ricercatori, a dottori, a medici, allora cerco di parlare più tecnico possibile per far capire le persone che si stanno, sia seguendo che le persone che stanno intervistando, determinati nei concetti, determinati nelle ricerche, determinati negli studi. Allora tante volte ti bloccano quel ragionamento, quella parola chiave che fa capire quel tipo di analisi che sto facendo in quel periodo, in quei giorni. Purtroppo lo fanno, ma non lo fanno solo, non voglio, lo fanno a moltissime altre vittime che vengono attaccate in questi sistemi, che hanno riscontrato tutti quanti queste esperienti di attacco, manipolazione e di blocco cerebrale, che bloccano la memoria temporanea, non si ricordano veramente quello che stavano facendo o venuto prima, quello che stavano facendo 5 anni e venuto prima. Tanti dicono va bene, sarà l'età, tanti dicono va bene, ogni tanto uno si può dimenticare, tanti dicono una cosa, tanti dicono un'altra, ma dico va scusa, come è possibile? Io prima mi ricordavo tutti i progetti, tutti i lavori, tutto quello che facevo 25 anni fa, però da quando mi hanno collegato con questa emissione, nel 2010-2001, noi vuoti di memoria continui. C'è qualcosa che non guarda. Perché mi ricordo tutti gli avvenimenti che sono successi prima, ma non mi ricordo determinati avvenimenti che mi stanno accadendo in questo momento. Mi ricordo cose di quale tempo fa, ma non mi ricordo le cose che sto pensando in tempo reale. Sì, a me succedeva anche col cellulare. Loro dicevano di avere il mio e-mail, tramite il quale loro potevano controllare i messaggi, l'entrata, l'uscita. Questo è vero, possono clonare il tuo telefono. Sì, loro avevano proprio il mio e-mail, proprio l'hanno detto tranquillamente nelle intercettazioni. Quindi loro sapevano, se io mi dovevo incontrare con una persona, loro già sapevano anticipatamente l'orario e tutto, perché loro avevano la capacità di collegarsi al mio cellulare. Sapevano già anticipatamente, se magari mi squillava il cellulare, loro già anticipatamente sapevano chi fesse per chiamarli. Certo, loro lo sanno perché interagiscono attraverso la rete telematica, quindi possono sapere attraverso le tecnologie avanzate tutto quello che vogliono, attraverso pure i dati dei telefoni, attraverso le deduzioni celebrali. Ma io credo che molte persone che ci circondano sono pilotate a sua volta, ma non si accorgono di essere pilotate. Cioè sono anche loro cavie, ma non sono consapevoli. Infatti molti avvenimenti tante volte sembrano strani, tante volte penso che una persona, dopo un minuto la persona mi telefona, o tante volte parlo, non ti ho detto di un avvenimento che è successo qualche giorno fa, stavamo a casa di una coppia di ragazzi, la ragazza è incinta. Allora la ragazza mi diceva che lei ultimamente si è finita delle nuove vibrazioni sulle mani. Allora io mi sono avvicinato alla ragazza e gli ho detto scusate, aspetta, mettete le mani così, le ha messo le mani sul tavolo, rivolte verso l'alto e io ho preso le mie mani e le ho messe sopra, ma non sopra toccandola, stava a 4-5 cm dalle sue mani. A un certo punto io gli dico alla ragazza, ma la mano sinistra è quella che ti vibra di più, è vero, ma ha detto è vero, sento le vibrazioni più forti sulla mano sinistra, che è praticamente la mano del cuore, quella che interagisce anche nei centinafosi del cuore. A un certo punto la ragazza mi ha guardato così, mi ha detto, ma non è possibile, come fai a sentire queste sensazioni che sento anche io? Come glielo spiegava la ragazza, che magari potrebbe essere che c'è un'interazione di frequenze che sincronizzano i corpi delle persone, magari attraverso una bioanima, un'anima artificiale che interagisce attraverso la corrente elettrica, perché la corrente elettrica che viene utilizzata nel territorio nazionale italiano, all'interno della corrente elettrica loro inventano delle frequenze, queste frequenze interagiscono con i centri nervosi centrali, interagendo con i centri nervosi centrali attraverso la frequenza dei 50 Hz, poi ci sono delle frequenze armoniche che aumentano e diminuiscono a seconda delle modulazioni che loro vogliono investire nella corrente elettrica. Sì, questo lo posso confermare, perché le voci aumentano la loro intensità, soprattutto se io mi avvicino a delle prese elettriche, oppure a un PC, oppure al televisore, insomma là dove c'è fonte di energia elettrica, quello l'ho notato, sì. Vogliamo dire che in questo periodo se stai in villeggiatura, in un posto dove praticamente c'è una casa di campagna e te l'altro giorno mi hai detto che ti sono cambiate totalmente di frequenze, sì, sicuramente, sì, sì, è vero. Mi sembra che sto vivendo in un altro mondo, in un paradiso, sì, perché stando all'aperto in mezzo a un prato non puoi essere attaccata direttamente con l'elettricità, con i campi elettromagnetici di esti e quindi cominci a risentire le frequenze in natura. loro lo sanno di questo sistema di questa tecnologia, infatti molte persone credono che se cambiano casa o cambiano il posto dove loro stanno, si vengono tolte delle primate frequenze, invece tante persone purtroppo hanno cambiato casa, sono trasferite i posti, ma non è cambiato niente. Esatto, pure io ho cambiato casa, ma da questo punto di vista purtroppo non è cambiato nulla, perché come loro potevano comunicare attraverso il mio cervello nella casa precedente, così lo fanno anche adesso nella nuova casa, quindi non è servito a nulla aver cambiato casa. Però le frequenze sono migliorate, peggiorate o sono uguali? Sono cambiate le persone che comunicano con me, prima erano i vicini, adesso suppongo che siano persone che stanno all'interno del palazzo, che però prima abitavano nel palazzo precedente, quindi penso comunque che siano persone che sono al corrente della mia situazione, di quanto è successo e persone che stanno al servizio, secondo me, anche di quelli precedenti, ossia che mi devono seguire e soltizzare a livello mentale. Quindi loro hanno e continuano ad avere contatti con me a livello cerebrale, quindi la cosa in questo senso non è cambiata. come prima dicendo di parolarci cose strane? No, adesso è cambiata la situazione, adesso invece dicono, lei non se lo meritava, lei aveva diritto ad avere il seno, lei aveva diritto ad avere una sua vita privata, abbiamo sbagliato tutto. Il finto, il morso. Esatto, secondo me invece questa è una tecnica raffinata psicologica al contrario. brava, allora come te sai, la registrazione dopo un'ora, si esatto, dopo un'ora cade la linea. Ma guarda che strano, veramente strano, cade sempre dopo un'ora la linea, anche a te ti succede col telefono tuo? Si, si, sempre, sistematicamente. Si vede che qualcuno ha delle registrazioni automatiche inserite sui nostri telefoni che praticamente dopo un'ora devono bloccare la registrazione e la devono far ripartire con una seconda registrazione. Oppure ci hanno dei file sincronizzati per le registrazioni automatiche che creano questo sistema di disturbo manipolazione anche quando uno parla attraverso i telefoni di questi argomenti. Però procediamo dal punto dove ci eravamo fermati. Si, stavamo dicendo che praticamente l'oro è un finto pietismo, fanno credere che loro sono dispiaciuti del fatto che mi hanno fatto venire un tumore, del fatto che mi hanno fatto uscire pazza, del fatto che io non mi meritavo tutte queste cattiverie, che loro mi hanno fatto cattiverie su cattiverie, alla fine ero una persona seria, alla fine io vestivo in maniera elegante non per fare la vita di perdizione ma perché io ero semplicemente una donna elegante che vestiva elegantemente e che l'eleganza era fine a se stessa, non era un mezzo per agganciare gli uomini, come loro dicevano inizialmente, che dicevano che io mi vestivo così per poter abbordare gli uomini, invece loro adesso da quello che dicono si sono resi conto che la mia era un'eleganza a fine a se stessa in quanto vestivo semplicemente elegante, solo così perché quello era il mio stile, il mio modo di vestire. Dicono che non mi meritavo le violenze sessuali e che non mi meritavo di essere chiamata in la maniera perché io sono una persona seria e che se io mi sono messa con quella persona che loro sanno e perché io ero innamorata e che invece loro hanno visto il mio innamoramento come se io avessi voluto fare la meretrice. In questo discorso tu hai detto che questa persona era un militare, puoi pensare che questo militare sia stato mandato apposta da te? No, di questa persona non è quella di cui mi ho parlato, questa è un'altra persona, non è un militare. No, dicevo quando eri fidanzata con quel militare che te mi dicevi, poteva essere che magari era stato mandato da qualche superiore per vedere qualcosa? Non credo perché l'incontro è stato casuale. E se invece era programmato? Non credo, poi non so, non possiamo sapere. Va bene, era solo per dirtelo perché mi sono capitate varie situazioni e varie altre vittime che poi si sono ritrovate fidanzate con dei militari, ovviamente questo non è che tutti quanti succede la stessa cosa, ci sono dei militari in Italia che sono molto bravi, diretturo ho fatto pure delle interviste con alcuni poliziotti che hanno dato la loro testimonianza che venivano sottoposti anche loro a queste manipolazioni, di cui uno, un ispettore di polizia ha detto che lui ha seguito per tanti anni una vicenda di un ragazzo che diceva che sentiva le voci che gli parlavano in testa e che sembravano come dei militari che gli impartivano degli ordini, addirittura lui stesso ha portato una denuncia scritta da ragazzo e scritta anche dall'espezione di polizia in procura e dopo 8 mesi è stata praticamente archiviata perché mi dicevano che non c'era nessun presupposto per potermi andare avanti in questa idagine. Come a me mi dissero, ah lei mi deve portare le prove, scusa ma gli imparti operativi che a che cosa servono, gli imparti investigativi che cosa servono? Allora io devo portare le prove di un reato che subisco io, cioè è come se una persona viene uccisa ma il cadavere deve portare la prova di chi è l'assassino, alcuni parenti devono dire io ho trovato un parente morto, ma ci dovete dire chi è, ci dovete portare le prove che l'hanno ammazzato, è una cosa assurda insomma, io devo portare gli imparti operativi questi periodi, ma infatti poi quando vai a denunciare degli nativi di tecnologia, addirittura una volta un militare mi dice, ah ma io mica posso accettare la denuncia e magari sono i stessi nostri colleghi che gli stanno facendo questo, gli ho detto che cosa c'entra, gli ho detto scusi e non ha accettato la denuncia, allora io sono uscito da quella caserma e immediatamente sono andato a un commissariato, gli ho spiegato a un ufficiale della polizia quello che mi avevano detto in questa caserma e l'ufficiale mi ha detto mi dia nome e cognome di questa persona che io lo denuncio all'istante, perché un tutore della legge non si deve permettergli la denuncia non l'accetto perché dopo potrebbero controllare i miei colleghi, non lo deve fare, il tutore della legge prende la denuncia, la deve protocollare, mandare al tribunale protocollata la denuncia e ci deve dare il numero di protocollo, che è il numero di serie che viene dato quando viene protocollata questa denuncia, arrivano i dati o arrivano praticamente incattamenti al tribunale, è il giudice o il magistrato che deve dire se la denuncia deve andare avanti, deve essere fatta iniziare un'indagine o deve essere assiliata, non la gente che sta dentro al commissariato oppure dentro a una caserma, io infatti sono rimasto a bocca aperta quando mi hanno detto che non potevano accettare questa denuncia, addirittura un'altra caserma dove ho portato la denuncia, avevo parlato con il maresciallo della caserma, mi dicono che avrebbero provveduto a questa denuncia e che avrebbero praticamente cercato di trovare una soluzione. Dopo sei mesi e un anno sono andato, mi aveva detto che mi avrebbero fatto avere notizie, dopo sei mesi e un anno sono andato a questa caserma e ho detto scusate ma io ho questo numero di protocollo che sono venuto qui e ho fatto questa denuncia, la denuncia non risultava al tribunale, quindi loro non l'avevano mandata al tribunale, la denuncia era rimasta e trova la caserma. Lo sai cosa mi hanno detto? Che c'era stato un allagamento degli archivi sotto la cantina della caserma e questi fascicoli praticamente si erano rompiti. Ero andati persi. E che erano andati persi. Ma guarda, ma come è possibile, scusi, faccio una denuncia che mi attaccano con l'arbre di energie dirette, con sistemi di polomenici satellitari che vengo controllato e spiato dentro casa con le arbre di energie diretta, non mi confondiate che mi bruciano tutto il corpo e loro spariscono addirittura si rompono le pompe. Ma dove stiamo? Noi non stiamo su Miro, non stiamo in mezzo alle palacitte, la caserma non sta sulle palacitte in mezzo a una palute. Purtroppo si erano aumentati questa cosa e a me poi mi è venuta da ridere. Io poi volevo parlare con il giro di una caserma e non si trovava più a giudizio della mano. Mi hanno detto che era andato già in pensione. Quindi pensa un po' che giri che già erano sotto. Ma tanto io ne ho fatte 21 di denunce dettagliate, poi avevo capito che le caserme bloccavano queste denunce e io praticamente sono andato direttamente in procura e ho portato le denunce in procura. però devo dire una cosa che tra tutta questa storia i carabinieri e la guardia di finanza sono stati molto resti a portarmi avanti queste denunce a prendere queste denunce. I finanzieri mi dissero ma lei si rende conto che cosa sta denunciando, che tecnologia sta denunciando? Io ho avuto un po' di problemi. Invece la polizia sono stati prima delle persone che immediatamente hanno seguito il caso, mi hanno parlato per un aiuto morale e psicologico sull'accaduto che stava accadendo e hanno cercato di mandare avanti le denunce. Invece gli altri no, gli altri no, non le possiamo accettare, le dobbiamo, non posso essere mandati, ce le lasci qui, mettano una filma, poi vediamo, le denunce non arrivavano al tribunale. Allora ho capito che c'era qualcuno che dall'alto bloccava queste denunce. Allora una volta che sono andato direttamente al tribunale, l'ufficio primi atti, penso che dopo la quarta denuncia, una persona che stava ad avere l'ufficio primi atti mi si avvicina e mi dice io ti devo dire una cosa, io mi ricordo direi, anche noi qua dentro siamo tutti spiati. Uno è una persona che lavora dentro un posto al tribunale di Roma e ti dice una cosa del genere, mi ha un attimo a bocca aperta, allora qui la cosa non è che la vedo solo io, che capisco che queste persone, che noi andiamo spiati attraverso queste tecnologie, qui sono una marea di persone che si stanno accorgendo che c'è qualcosa che non quadra, che c'è qualcosa di anomalo. Fatalità dopo che ho portato le successive denunce il sistema era diventato differente, avevano incominciato ad attaccarli in altro modo, adesso loro li mettono nel canale come se io sono un criminale, come se io sono un terrorista, come se io sono un mafioso, come se io sono un drogato. perché? Perché non sanno più dove attaccarti a livello fisico, a livello psicologico, allora cercano di attaccarti facendoti credere che sei un criminale e che loro stanno facendo queste indagini perché io sono un criminale. Ma come è possibile? Cioè è come se vai da un criminale e gli dici ah ma noi ti controlliamo con questa tecnologia, però continua a fare uguale il criminale. Il criminale che cosa fa? Non farà mai più il criminale. Oppure una persona che ragiona un pochettino dice ma scusa ma com'è possibile? Io faccio il criminale e se mi viene a dire che io faccio il criminale. Non è possibile questa cosa perché l'indagine di scrittoria non deve cambiare minimamente la vita di un individuo e l'indagine che viene fatta su una persona non deve interferire con la vita perché se no è un grave reato perché se non parlate alla persona che dici ah io ti sto controllando tepedino col satellite. Sì ma infatti secondo me questi sono i crimini attuali. Cioè veramente stare addosso a una persona ma altro che stalking. Cioè ma lì c'è di tutto. Veramente queste sono le uccisioni tra virgolette moderne. Brava, brava. Sono dei crimini, sono dei crimini e in un altro proprio che sono legalizzati. Minurali, inseguzioni minurali. Loro è come che stanno creando un campo di consensamento a cielo aperto su tutta la nazione italiana. C'è solo dei crimini, però la crimine la dice lunga, la dice tutta. Certo, 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 purtroppo è così. Non ti voglio uccidere con la pistola e ti sistemo così. Cioè io ti perseguito a vita a livello cerebraico e veramente una cosa. La pistola. No hai detto una cosa giusta però la pistola in Italia è considerata un'arma. Sì invece questo no. I satellite o le armi non sono considerate dirette, non sono considerate armi. Sì perché non sono ancora presa in considerazione di una vada. Armi non letali. Scusa ma se mi spari la radiazione addosso e a me mi prende un tumore, mi prende una lucemia, mi prende una schemia cerebrale, una trombosi, un infarto oppure mi crea un blocco cerebrale mentre sto alla guida. Ma per questo io dico questo è un'arma di tutti questi. Loro la chiamano cibernetica nel loro gergo, la chiamano cibernetica. Io ho imparato questo termine con loro perché neanche sapevo di che cosa fosse la cibernetica. Quindi questo è un termine che l'ho sentito da loro. Secondo me la cibernetica è un'arma silenziosa che piano piano, piano piano, giorno dopo giorno ti uccide. Perciò per me è un crimine. È un crimine a tutti gli effetti. Ma ci sono tantissime persone, l'altra settimana mi ha contattato un ragazzo che veniva sottoposto a tortura e lavaggi del cervello con queste tecnologie e dopo un po' ha voluto parlare con me anche il padre e il padre lo aiuta in tutti i modi. Ha detto io da quando ho sentito le sue interviste, ho visto i suoi canali su YouTube, lui ha prima visto il canale Angeli Custodio e MK Oltre Italia e Liliano Babilone su YouTube, ha detto io da quando ho visto le sue interviste e le sue ricerche ho capito che il mio figlio non è un malato demente, non è un pazzo, non è uno schizofrenico e gli ha detto al figlio, siccome loro vanno in un gruppo di aiuto dove ci sono delle persone che sentono le voci, che ha avuto dei traumi, che ha avuto dei problemi psicologici, dove si aiutano. Ha detto mio figlio che è cambiato, è diventato un'altra persona, sta bene. Allora io gli ho detto a lui, ma avete provato a farvi delle passeggiate in mezzo ai prati, sulla spiaggia? Ma ha detto sì, mio figlio ha detto che le voci le sente molto di meno e che si sente meglio. Sì, ma anche mia madre si è ricreduta dopo quei 3 mesi che lei aveva deciso il ricopito, proprio si è ricreduta perché ha visto che comunque piano 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 e sono rientrata in me e che ho fatto un'analisi lucida di quello che mi è successo, quindi non è che io stavo fuori di testa, ero semplicemente stressata a livello neurale, perché questi mi bombardavano con la loro cibernetica. Poi le vibrazioni sul corpo che sono sicuramente avete sentito? Sì, sicuro, mi sono proprio sentita surriscaldata. Ho sentito anche nei momenti in cui mi sentivo piacciata, i primi momenti in cui mi sentivo piacciata loro dicevano che erano attacchi satanici. Perché sono le frequenze del caldo e le frequenze del freddo. La frequenza del caldo surriscalda il corpo, la frequenza del freddo lo congela. Pensa se questa tecnologia viene messa su tutta la nazione italiana per costringere che ne sono l'estate tutte le persone ad accendere i condizionatori. Pensa a quanti miliardi entrerebbero nelle tasche dello Stato in quei due o tre mesi di caldo a foso. O pensa alla stessa identica cosa che viene fatta all'inverno. Congelano le case delle persone e tutte le persone devono accendere i scaldamenti e i condizionatori. Nelle case dello Stato incenderebbero miliardi. Questo è come il giochetto della manipolazione mentale su centinaia oppure migliaia di persone che fa sentire le voci e tutte queste persone vanno a comprare i farmaci, le industrie farmaceutiche di chi sono dello Stato e il giochetto praticamente o di società massoniche che operano con lo Stato. Il giochetto è semplice. La tecnologia viene utilizzata per sfinto scopo di indagini e investigazione ma in realtà viene utilizzata come sperimentazione con l'auto di un'arma di energia diretta su delle cavi umane inerni che praticamente sono i cittadini italiani o persone che stazionano nella nazione italiana. Purtroppo è questo il giochetto, è questa la reale tecnologia, però la manipolazione radiocognitiva porta che il ragionamento logico viene totalmente deviato e le persone incominciano a credere a queste voci e questa è una cosa brutta perché le persone che credono alle voci incominciano a diventare veramente dei manciuriani radiopilotati, seguono solo quello che vi viene detto attraverso queste frasi o queste frequenze, che tante persone adesso non riescono più a capire se sono i loro pensieri o se sono i pensieri messi nel loro cervello quando fanno qualunque cosa. Ma sì, perché loro vogliono secondo me manipolare anche la personalità, ti vogliono modellare al loro piacimento, loro ti inibiscono anche a livello sessuale, tu prima magari avevi, adesso loro quasi ti fanno sentire inibita, perché giustamente sapendo che ci sono queste persone che ti stiano, che ti giudicano, che si arrogano il diritto di dire tu sei così, tu sei quella, di emettere un giudizio su di te, ma è chiaro che mentre prima tu ti senti una persona libera, adesso prima devi fare una cosa, magari ci pensi, no? E' come avere un testimone oculare delle tue azioni quotidiane costantemente H24 e quindi ti senti spiata, veramente è un crimine, io lo chiamo crimine per me è tale, non posso riscostarmi dall'usare un altro termine migliore di questo. Eh sì, allora io per adesso volevi aggiungere qualche altra cosa sull'intervista o per te pensi che… No, diciamo che in maniera assumaria penso di aver detto quanto mi è capitato. Ma quando noi ci siamo incontrati a Roma le tue frequenze, si erano abbassate o si erano alzate? Quando ci siamo incontrati… Oddio là con il rumore della radio adesso non ricordo bene, però… No, si erano abbassate. Eri un po' più tranquilla, più serena… Sì, più tranquilla, più serena sì, perché già sapere che altre persone condividono il tuo stesso problema sicuramente tiri in cuora se così si può dire, perché come si dice è malcomune mezzo gaudio, nel senso che tu dici ah oddio allora non sono sola a questo mondo che ha questo problema, ci sono altre persone che hanno passato, hanno trascorso la stessa problematica, infatti quando vado a quel gruppo di editori di voci anche lì vedo che non sono la sola, anzi più sanno e più aumentano, perché purtroppo è un problema che dilaga, dilaga sempre più, si vede che evidentemente loro vogliono colpire un numero, una cerchia sempre più numerosa di marionette, perché alla fine siamo marionette nelle loro uomini, però noi ci dobbiamo riunire e combattere, combattere questo loro modo di diventare criminali sull'umanità. E' vero, perché questo è veramente un crimine contro l'umanità, la cosa essenziale è che le persone che ascolteranno questa intervista devono capire che praticamente queste interviste vengono fatte per aiutare moralmente le altre persone che entrano in questo canale, perché noi ci siamo entrati da 10 anni, 15 anni, però ci sono altre persone che entrano da un mese, che si vedono un mondo parallelo, dicono ma qual è il mondo reale, ma che cosa sto pensando, che cosa mi sta succedendo e pensano di essere diventati delle pazze e magari 20 schizofreni, ma in realtà devono capire che vengono solamente sottoposti e che interagiscono con delle tecnologie che creano delle manipolazioni radioconetiche. Per adesso ringrazio la ragazza che ha fatto questa sua importante testimonianza, che è una cosa importante divulgare e far capire alle persone che non sono sole, che possono unirsi a determinati gruppi e che possono praticamente parlare liberamente quando noi facciamo le riunioni, quando noi facciamo dei convegni, dei sit-in o anche dei semplici aperitivi culturali, per poter poi stare tutti quanti insieme, poterci un po' sfocare, liberarci da queste… Condividere questi momenti… Questi momenti un po' brutti diciamo, che però cercheremo di… Particolari… 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 Cercheremo di risolvere questo grave problema anche aiutando moralmente con queste interviste delle persone. Per adesso ringrazio a tutti, un saluto. Grazie, grazie a te e a tutti. Arrivederci.